Il Lavello era chiamato ad una reazione dopo il tonfo esterno con l'audace Cerignola e quella reazione è arrivata subito alla prima occasione allo russo di Venosa. I ragazzi di Zeman passeggiano sul malcapitato Sorrento con il punteggio finale di 4-0 tra i migliori in campo e Loan Zni autore di una doppietta Campani condannati alla nona sconfitta stagionale. Fischio d'inizio e partita giocata subito a buoni ritmi. Al secondo minuto Kunzi prova ad impensierire i padroni di casa su punizione traiettoria di pochissimo allato. Risposta immediata del Lavello un minuto dopo con il colpo di testa di Loan Zni deviato in angolo su assist di Vito Francesco. Al diciannovesimo una gran giocata a centrocampo di giunta dà il via alla ripartenza che porta Burzio alla conclusione vincente che prima sbatte sulla traversa e poi si insacca in porta e vantaggio del Lavello festeggiato con tutti i compagni. Al ventitresimo si fa notare Loan Zni con una rovesciata in aria campana terminata al lato. Al ventiseiesimo la timida reazione del Sorrento affidata alla soluzione di Procida terminata però alta sulla traversa. Al trentaquattresimo occasione per Herrera che si aggiusta la pala dal limite per poi concludere al lato. Al quarantatresimo calcio d'angolo per i padroni di casa sul quale si avventa Longo di testa. Scarano è attento e ci mette una pezza. Prima dell'intervallo al quarantaseiesimo Kunzi torna a farsi pericoloso con un destro secco in aria ben ribattuto da Carretta. All'intervallo i Lucani conducono per una rete a zero. Nella ripresa non c'è storia. Al dodicesimo punizione per il Lavello alla battuta Longo col Mancino che impegna ancora una volta Scarano costretto a mettere in angolo. Dallo stesso corner, sfera che carambola in aria, Eluazni è il più lesto di tutti ad arrivarci a concludere in porta e 2-0 Lavello e partita che si mette ulteriormente in discesa per i ragazzi di Zeman. Il Sorrento crolla definitivamente. Al diciassettesimo contropiede Lucano guidato da Vito Francesco che serve Longo dai e vai di tacco. Conclusione che si stampa sulla traversa. Poi arriva Eluazni che fa secco Scarano e firma la sua doppietta personale. 3-0 partita chiusa ma Lavello non basta. Ventiseiesimo Eluazni è scatenato. Conclusione violenta di destro a caccia della tripletta. L'estremo difensore Campano si rifugia in angolo. È solo questione di tempo perché al trentunesimo l'inarrestabile. Vito Francesco serve un pallone prezioso per Longo che col Mancino traccia il diagonale giusto per la rete del 4-0 definitivo. Poker di gol allo russo di Venosa. Il Sorrento attende solo il triplice Fischio ma nel finale prova a reagire con orgoglio. Al minuto 48 Cassata ci prova su punizione ma Carretta è attento e mette in angolo al suo primo intervento della ripresa. Un minuto dopo Eliccardi a tentare il colpo di testa ma la sfera scivola mestamente sul fondo. Triplice Fischio vittoria perentoria del Lavello che aggancia così il Casarano al secondo posto in classifica.